nella precedente tavola la tavola 23 abbiamo rappresentato una piramide a base esagonale sezionata con un piano perpendicolare al pv e inclinato rispetto agli altri due piani la situazione che abbiamo rappresentato è quella che vediamo adesso con una sezione fatta in questo modo bene abbiamo visto di come la vista sul piano orizzontale è una vista di questo genere abbiamo visto di come la vista sul piano laterale è di questo genere e sul piano verticale in quest'altro genere di quest'altro genere bene in nessuno dei tre casi che noi abbiamo visto riusciamo mai a vedere la figura proprio nella sua vera dimensione perché la vediamo sempre scorciata ecco faccio vedere ecco in questo modo sicuramente più piccola scorciata in quest'altro modo è sempre più piccola scorciata anche così invece nella realtà vedete la figura è molto più lunga allora vediamo come possiamo con una costruzione geometrica riuscire a rappresentare il ribaltamento diciamo così della vera figura sezionata in modo che si possa vedere nelle sue dimensioni reali vediamo come procedere allora di fatto partiamo dalla rappresentazione della piramide sezionata che abbiamo eseguito con la tavola 23 l'unica accortezza dovremo fare in modo di dividere il foglio diciamo così non in quattro parti uguali ma fondamentalmente in sei parti nel senso di lasciare uno spazio qui laterale che ci permetterà qui come di ribaltare la vera figura quindi rappresentiamo nuovamente la piramide come nella tavola 23 con le stesse dimensioni però ecco mettendo questa linea di separazione pv pio non al centro ma diciamo così a un terzo dalla squadratura in modo da lasciare lo spazio quindi partiamo esattamente in questo modo la vediamo come procedere allora per prima cosa dobbiamo costruire un piano quindi una linea che è perpendicolare alla linea di sezione vedete questo angolo è di 90 gradi quindi con la squadretta partiremo da questa linea e tracceremo la perpendicolare la perpendicolare sotto di fatto è la traccia del piano anche questa se non l'abbiamo già rappresentato lo possiamo fare quindi abbiamo queste due linee adesso come procederemo procederemo incrociando i punti uno per volta faccio vedere come partiamo dal punto m vedete il punto m parte da questo punto quindi non le porteremo l'orizzontale facendo centro in questo punto di incontro delle linee inclinate ricostruiremo un arco e riporteremo a sua volta la parallela al piano di sezione ugualmente dall m del pv tracceremo la perpendicolare e quindi troveremo il punto m reale vedete qui l'abbiamo chiamati m1 qui m2 e qui m3 in questo caso lo chiameremo m senza nessun apice proprio perché è la vera figura la figura proprio reale quindi ricapitolando partiremo dal punto m sotto arriveremo alla linea del piano con un orizzontale facendo centro sul punto di incontro tracceremo un arco da questo punto che troviamo la parallela al piano di sezione che si incrocerà con la perpendicolare al punto m e abbiamo trovato così il punto m facciamo la stessa cosa per il punto l faremo la stessa cosa per tutti i punti quindi l e l partiremo da sotto arco linea dritta l dalla perpendicolare a questo punto l e m li possiamo già unire perché il primo lato della nostra figura facciamo la stessa cosa con il punto i quindi partiamo da sotto incrociamo le linee con quello che viene dal piano di sezione e troviamo il punto i e li uniamo la stessa cosa la faremo con h eccola qua poi andremo avanti e la faremo con m è chiaro che il punto con il punto g scusate è chiaro che il punto g essendo di fatto allineato con m in questo caso bisognerà esclusivamente prolungare quello che avevamo già tracciato fino a m incrociandolo con il punto g che viene da sotto uniamo anche qui h e g e mancherà soltanto il punto n eccolo qua anche in questo caso il punto n e il punto i sono di fatto allineati quindi alcune linee costruzione ce le troviamo già fatte e abbiamo trovato il punto n a questo punto li uniamo vedete questa figura che abbiamo rappresentato è un pochino più grande delle due figure che avevamo già visto perché queste erano scorciate quindi la completeremo facendo diciamo il tratteggio finale in questo modo abbiamo rappresentato la vera figura sezionata con le sue dimensioni reali vedete il fatto che l'abbiamo decentrata verso destra la tavola è per permettere appunto di che le linee le costruzioni possano diciamo così entrare comodamente nella tavola quindi nella vostra rappresentazione se utilizzate le proporzioni che vi ho fatto vedere adesso tutto il il disegno c'entra tranquillamente